buonasera ben ritrovati nel mio canale oggi volevo fare un nuovo video sullo spacchettamento dell'album della Yves Rocher dell'album numero 17 quindi questo è il doppio spacchettamento album numero 17 questo era l'album in vigore fino al 24 gennaio quindi fino all'altro giorno ed era l'album dei saldi quindi questo è il secondo ordine che faccio con questo album mentre adesso è in vigore questo è l'album numero uno che è in vigore fino al 14 febbraio e ci sono come novità ci sono i rossetti matt della Yves Rocher poi ci sono varie offerte delle confezioni pure per San Valentino per fare i regali di San Valentino c'è questo set uomo schiuma da barbo gel da barba insieme a balsamo dopo barba 9 euro 9 euro e 95 ci sono altre confezioni 14 euro e 95 e poi ci sono questi sette qua tre profumi da 200 mg a 9 euro e 95 questi pure sono molto belli e la novità che sono usciti come bagno doccia queste tre fragranze tre nuove fragranze quindi melagrana e peperosa magnolia e tè bianco e fiore di cotone mimosa 400 millilitri a 3 euro e 95 invece quello da 200 millilitri 2 euro e 70 se volete comunque sotto vi lascio il link di questo album così lo potete sfogliare ed ora iniziamo lo spacchettamento queste sono delle fiale anticaduta sono in questa confezione ci sono quattro fiale quattro fiale da 15 millilitri 15 ml allora questo è un trattamento per un mese va utilizzato a giorni alterni su ogni fiale ci sono le tacchette che è la quantità di prodotto che bisogna utilizzare ogni giorno questo adesso stanno a 19 euro e 95 prezzo pieno invece 24 euro e 95 e queste sono molto richieste poi insieme a questo set qua ha ordinato questo shampoo stimolante anti caduta che erano in offerta in questo album 27 euro e 95 invece uno costa 5 euro e 95 prezzo pieno e quindi anche questo era molto conveniente poi il mio latte per il corpo preferito cioè questa è una fragranza bellissima questo è al lampone e menta peperita questo album però il prezzo era pieno quindi 7 euro e 95 poi sempre della stessa linea bagno doccia 400 millilitri a 3 euro e 95 lampona lampone e menta peperita questo è delizioso ve lo consiglio poi bagno doccia al mango 400 millilitri di prodotto a 3 euro e 95 questo è il mango e coriandolo anche questo questo è un bel profumo e un altro latte corpo e un altro latte corpo in questo caso mango e coriandolo quindi questi due in abbonato in abbinamento 390 millilitri per 7 euro e 95 poi un altro bagno doccia lampone e menta peperita 400 ml 3 euro e 95 due confezioni di questa crema per il corpo questo è un latte nutriente intensa burro di karité per pelli molto secche questo è 390 ml ed era in offerta a 8 euro e 95 mentre il prezzo pene 12 euro e 95 questo infatti è molto conveniente con l'altro ordine era non era disponibile quindi l'ho ordinata con quest'ordine qua questa è ottima per chi ha soprattutto la pelle molto 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 secca poi invece è una crema queste 50 ml di prodotto per 5 euro e 95 era in offerta a 5 euro e 95 mentre di solito si trova 7 euro e 95 quindi anche questa era molto conveniente questa è una crema che usandola tutti i giorni ci affina la grana della pelle quindi è molto buona e ottima usata come base per il trucco poi me ne hanno ordinato un'altra di questa cliente mi ha ordinato la rich cream questo è un trattamento extra rigenerante super ristrutturante 30 oli preziosi e olio di mille rose questa è la mia crema preferita questo è un trattamento che può essere usato sia da giorno che da notte come quantità c'è 70 millilitri 75 millilitri 22 euro e 95 queste ottime ve la consiglio la uso anche io anche se andiamo a vedere vicino ci dice che questa crema va utilizzata dai 50 anni in su ma io la uso perché mi piace tantissimo e la consiglio e la consiglierò sempre poi anche i sieri erano un'offerta su questo album e questo è un siero ultra rughe e luminosità è un siero ultra levigante questo va dai 30 ai 40 anni e si usa prima di usare la crema idratante sia da giorno che da notte in abbinamento sembra perché da solo il siero non fa nessuno quindi bisogna usare nulla quindi bisogna sempre usare per ampliare l'efficacia del trattamento bisogna sempre usarla e usarlo in abbinamento alla crema ovviamente allora questo costava 11 euro e 95 mentre di solito se non sbaglio 13 euro e 95 poi mi hanno ordinato questa matita questa è una matita waterproof per gli occhi era in offerta a 5 euro e 95 mentre il prezzo di solito è sui 9 euro e 95 poi mi hanno ordinato dei balsami labbra allora uno al cocco questi costano ognuno 1 euro e 95 uno al cocco uno al karité che è utile per chi tiene le labbra molto scrivolate un altro al karité macadamia macadamia fragola fragola si allora questa fragola di solito ci sono fragola ciliecia e lampone che sono colorati quindi colorano leggermente le labbra mentre macadamia, cocco, vaniglia, karité sono in colore questi qua sono ottimi io ho appena finito quello al karité poi poi e mi hanno ordinato un altro bagno doccia questo fragranza cocco e in abbinamento al latte corpo sempre al cocco quindi 400 ml di prodotto per 3 euro e 95 390 ml di prodotto per 7 euro e 95 questa fragranza anche questa è molto richiesta set quindi ogni shampoo è 300 ml di prodotto quindi 2 shampoo 7 euro e 95 quindi 2 set da 7 euro e 95 set di fiale quindi sempre a 19 euro e 95 poi mi hanno ordinato altri due creme anche questa è un'offerta queste sono crema idratazione 24 ore che possiamo utilizzare sia di giorno che di notte 50 ml di prodotto per 5 euro e 95 invece il prezzo di solito lo troviamo a 7 euro e 95 anche questo era molto conveniente poi un altro set di shampoo purezza questo è uno shampoo purificante all'ortica ottimo per chi ha i capelli grassi 300 ml di prodotto per 5 euro e 95 anzi 2 da 300 ml per 5 euro e 95 invece uno 300 ml 3 euro e 95 ho ordinato 3 sieri allora uno siero rughe compattezze questo è un siero che va dai 40 anni in su in abbinamento sempre alla crema ultra rinvolpante sia da giorno che da notte anche se a breve uscirà una crema che va utilizzata sia di giorno che di notte penso dall'album numero 2 che ottima ce l'ho provata allora poi questo siero qua costava 13 euro e 95 in offerta questo se non sbaglio 17 euro e 95 questo è un siero rughe lifting ha un effetto tensore sui contorni del viso quindi nel collo dei coltè per il collo dei coltè c'è la crema da usare in abbinamento sia la crema giorno che la crema notte questo dai 40 anni in su e poi c'è il elixir jeunesse questo è un altro siero 17 euro e 95 e 30 ml di prodotto questo ha un effetto anti inquinamento e va utilizzato dai 30 anni in su quindi lo possono utilizzare anche 40 e 50 anni va sempre bene questo è sempre ottimo naturalmente sempre in abbinamento alla crema da giorno e la crema da notte io lo sto usando in abbinamento mi hanno ordinato la saponetta esfoliante sempre al cocco questa va utilizzata due volte a settimana sotto la doccia per rendere la nostra pelle più liscia ed è anche molto molto profumata è la stessa cliente che ha ordinato questo siero 11 euro e 95 ha ordinato anche la crema in abbinamento che questa costava se non sbaglio pure 11 euro e 95 euro anche questa in offerta con il 40% e questo è tutto ciò che ho ordinato io che mi hanno acquistato i miei clienti io spero che questo video possa esservi stato utile in qualche modo se vi è piaciuto il video mi farebbe piacere se metteste un bel like sotto e se vi iscrivete al canale mi farebbe molto piacere io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima grazie